Siamo con il signor Salvatore Parrino, ci racconta la sua esperienza. Io sono un paziente della dottoressa Salitano perché due anni fa mi hanno riscontrato un linfoma a celluletti periferiche. Sono in cura tutt'ora perché è una malattia che almeno fino al momento non si può guarire, però è cronicizzata. Quindi devo seguire delle cure, ringraziando a Dio anche alle cure della dottoressa, se siamo oggi qua e perché sto benino, per non dire bene, diciamo bene più che benino. Perché ho superato momenti critici, momenti difficili, però oggi come oggi posso dire di condurre una vita nella normalità. Stare con l'associazione Linfovita, che praticamente sono un socio anche dell'associazione Linfovita, che è una bellissima realtà, una realtà che effettivamente ci ha dato specialmente a noi pazienti, ci ha dato tanto e ci continua a dare tanto perché abbiamo dei punti di riferimento molto, molto validi, cosa che prima, onestamente all'inizio della mia patologia, della mia frequenza in ospedale, non c'era. Oggi come oggi, bene o male, Linfovita, oltre a dare questa possibilità a noi pazienti di avere dei punti di riferimento fermi, veniamo aggiornati anche sulle nuove terapie che vengono naturalmente fuori perché la medicina, come sappiamo tutti, non si ferma, si va avanti. Grazie. Grazie. Grazie.